Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album di Ken Daniel e questo è in assoluto uno dei miei album preferiti proprio all'interno del K-pop. Sia il music video che la dance, che il significato che c'è dietro ogni canzone di quest'album. È pazzesco, l'ho amato, ha la follia. Allora adesso lo apriamo. Questo all'interno, svuotiamo. Questo ve lo faccio vedere dopo nelle varie photocard. Qui abbiamo il cd, non mi ricordo che versione sia questa, comunque ve lo scrivo nell'info box. Ok. Qui abbiamo il photobook. Ma guarda che bello! Questo è il terzo mini album che si chiama Iello, scusate, ma avevo mancato di dire tutto praticamente. Mamma, queste canzoni, Paranoia, Antidoto, ma tutte anche questa. Vi giuro, ascoltatevi di quest'album perché è digital. Ha fatto un lavoro pazzesco, pazzesco. Ovviamente è incentrato sul fatto che ha avuto la depressione, questa paranoia, poi è riuscito a uscirne. No ragazzi, io lo amo questo ragazzo. Oh, aspettate perché, ho sentito qualcosa, ma non ho niente, era il foglietto di Universe. Pensavo ci fossero delle foto care anche lì dentro. Invece no. Guarda che bello! Già, lo muovo nei 101. Adesso il triplo. Anche il photobook è stupendo di questo album. Davvero non saprei dirvi una nota negativa di questo album, solo che forse le canzoni finiscono. Quello, ma lo ascoltate fino allo sfinimento queste canzoni. Questo album proprio in generale. Infatti, sì, ce l'ho ancora impostate anche adesso. Mamma mia, che bello! Ringraziamenti. Crediti. Bellissimo. Allora, abbiamo questo, che era all'interno del photobook di Universe. Poi abbiamo un sacco di cose. Questi che sono i soliti adesivini, che c'erano anche negli altri. Oh, se riesco a togliere. Ok. Allora. Questo. Questo. Questo e questo. E poi abbiamo il segnalibro, che c'era anche negli altri. Giallo. Oh! Questa. Riuscito a vederla? Aspetta, eh. Ok. Mamma, che bello! No, lo adoro. Abbiamo questa. E poi abbiamo due fotocard. Che in realtà credo che una sia selfie e una no. Allora. Questa. No, vabbè. Ma io lo amo, lo amo. Anche il retro mi piace un sacco. Questa. E poi questa. Mamma mia. Sono adorabili. Bene. Per questo unboxing è tutto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!